Che vuoi? Uomini e donne, Lorenzo bacia Claudia, Giulia si infuria e se ne va Tra Lorenzo e Claudia è scoppiata la passione in esterna ed è arrivato un bacio, Giulia ha abbandonato il programma ma Lorenzo la segue. Nuove anticipazioni sul popolare dating show di Canale 5 che dal 16 settembre 1996 tiene compagnia dal lunedì al venerdì, con il trono over e con quello classico. Le anticipazioni di oggi riguardano il trono giovani che vede Lorenzo, Teresa, Luigi, Andrea ed Ivan alla ricerca dell'anima gemella. L'ultima registrazione ha mostrato colpi di scena incredibili, infatti abbiamo assistito al bacio tra Lorenzo e Claudia con il conseguente abbandono del programma da parte di Giulia, i primi baci di Luigi e tanto altro. . Lorenzo bacia Claudia in esterna scatenando la rabbia di Giulia. . Le prime esterne coinvolgono Giulia, la ragazza vorrebbe andare via ma Lorenzo palesemente interessato a lei la chiama con il telefono della redazione per invitarla in studio. . Lei accetta l'invito ed è presente in puntata, fino a quando non perde le staffe e abbandona la trasmissione. . Video a far scatenare la rabbia della bella corteggiatrice e l'esterna tra Claudia ed il tronista, in cui sembrano davvero tanto in sintonia, tant'è vero che lui la bacia. . Il bacio scatena la rabbia di Giulia che imbufalita esclama, per me è inaccettabile che il mio ragazzo possa baciare un'altra. . Maria le fa presente che la sua frase è un pochino eccessiva visto che per il momento Lorenzo non è il suo fidanzato, ma lei no molla e decide comunque di andare via abbandonando la trasmissione e lo studio di Cinecittà. . Il tronista, visibilmente combattuto, su consiglio di Maria De Filippi decide di andare a riprenderla, video, sconvolgendo tutti, soprattutto Claudia. Da quel momento Lorenzo Riccardi non farà più ritorno in trasmissione per tutta la durata delle registrazioni. . Primissimo bacio anche per Luigi, ancora litigi con Irene. . Luigi Mastroianni ribadisce la sua opinione nei confronti di Irene, la reputa falsa e pensa che lei sia interessata solo a fare successo, probabilmente scottato dall'incredibile quanto assurda vicenda capitata con Sara Affifella. . Dovendo scegliere chi vedere tra Elisabetta con cui aveva discusso, ed Irene, il tronista ha scelto Elisabetta. . Ma l'esterna che più ha fatto discutere non riguarda nessuna delle corteggiatrici che abbiamo citato fino ad ora, Luigi ha portato in esterna altre due corteggiatrici, entrambe molto giovani, Sonia e Giorgia. . Luigi bacia Sonia e porta fuori una nuova corteggiatrice. . L'esterna con Sonia è stata emozionante quanto inaspettata, tant'è vero che ha sorpreso anche Maria. . . . . . . .